Buongiorno, ciao a tutti, ciao a tutte e bentornati in compagnia della Eli. E' tantissimo tempo che non ci vediamo, siamo in una stanza vecchia ma nuova nella mia camera hobby che ho completamente risistemato. Innanzitutto volevo farvi gli auguri per un nuovo anno che è già iniziato, io non ho avuto la possibilità di farvi gli auguri per il Natale, vi ho fatto un breve post dove in tanti mi avete risposto e mi avete rifatto gli auguri e di questo vi ringrazio perché nonostante la mia assenza il canale continua a crescere, siamo sempre di più, siamo quasi ai 3000 iscritti e questo mi fa davvero molto molto piacere, ma come vi ho detto in quel post avevo proprio l'esigenza di stare in tranquillità. E' stato un anno, il 2023, soprattutto negli ultimi mesi, abbastanza complicato per me e avevo bisogno proprio di ritrovarmi, di passare del tempo con me stessa in silenzio preparandomi a questo Natale così diverso dagli altri anni e nulla, quindi mi sono goduta me stessa, la mia famiglia, la mia casa, i miei parenti, i miei amici e penso che questo sia stato fondamentale per ricominciare con la mia solita verve, allegria e quindi niente, avevo bisogno di questa cosa. Ma volevo però farvi gli auguri per questo nuovo anno che ricomincia sperando sia per tutti un anno ricco di salute, ricco di serenità, ricco di pace che ne abbiamo veramente tanto bisogno in tante situazioni e raccontarvi un po' che cosa ho fatto in questi giorni di assenza alle mie spalle. Dopo, se riuscirò, vi metto qualche fotografia della mia camera hobby quando vi dico che la mia camera hobby è un negozio creativo voi mi dovete credere perché qui dentro c'è tutta la mia vita creativa da quando ho iniziato a creare. Ho risistemato tutta la camera, abbiamo svuotato tutto non vi dico la mia camera e l'anticamera era piena di tutto ho buttato via tantissimi cimeli riviste di vent'anni fa di cucina che oramai non utilizzo più ho utilizzato tanto ma adesso non utilizzo più ho tenuto quelle riviste che da sempre mi accompagnano che sono cucina naturale, sale e pepe e la cucina italiana le altre ho buttato via tutto perché c'era troppa roba non avevo più spazio e non riuscivo neanche più a organizzarmi a entrare in questa camera. Con l'occasione che abbiamo ereditato da una zia che è venuta a mancare due anni fa questo mobile che è alle mie spalle e non avendo avuto tempo quest'estate di montarlo Paolo giustamente ha detto o questo è il momento giusto o altrimenti ci passa un altro anno e vi dico che ci ho messo 4 giorni interi dalla mattina alla sera per risvuotare e rimettere dentro, eliminare tutto adesso sono molto soddisfatta perché questa è la camera secondo me più bella di tutta la casa quando siamo venuti qui ad abitare ormai quasi 8 anni fa 7 a settembre del 2023 ho scelto proprio questa camera perché era la più calda la più luminosa e con il terrazzino quindi era per me la camera ideale dove poter passare il mio tempo creativo e infatti adesso è venuta proprio bene strapiena perché ovviamente io vi racconto di tutti i miei acquisti e di tutte le cose ma è veramente strapiena però sono davvero soddisfatta poi vi ripeto se riesco vi metto qualche fotografia dunque che cosa ho fatto in questo periodo d'assenza? come vi dicevo ho cercato di prepararmi al Natale dedicando magari un po' di tempo alla riflessione alla preghiera, al silenzio, all'attesa che secondo me è sempre importante quando uno crede prepararsi a questi momenti che ogni anno si rinnovano e ogni anno ci danno la possibilità di gustare appieno quello che è il periodo del Natale ho avuto anche l'occasione di incontrare una carissima amica e oggi vi parlerò proprio di questo incontro e degli scambi dei regali che ci siamo fatti potrebbe essere il video gemello del video di Simona la Simo di pensieri e pasticci di Simona che ha un canale su YouTube e poi ve lo carico ha aperto da poco questo canale ma sta avendo un successo strepitoso lei è una ragazza di qualche anno più vintage di me ma insomma siamo abbastanza vicine come età e un'amicizia che è nata oramai da 15 anni forse anche più ci siamo scoperte con i nostri blog di cucina e poi pian piano questa amicizia è cresciuta sempre più ci siamo incontrate parecchie volte anche fisicamente le nostre famiglie si conoscono e questa amicizia è diventata sempre più profonda un legame davvero molto bello molto intimo dove ci si può confrontare senza essere giudicati dove ci si consiglia dove con le nostre telefonate interminabili ci scambiamo tutto il nostro stress le nostre fatiche quotidiane di figlie, mamme, mogli, amiche di creative ci diamo consigli e quindi abbiamo deciso di incontrarci eravamo nelle vacanze di Natale avevamo tempo quindi noi, io e Paolo siamo andati a casa della Simo abbiamo incontrato suo marito abbiamo incontrato sua figlia che già conoscevo perché è venuta a trovarmi a casa quando era in una vacanza a Lecco non abitiamo molto distanti lei abita nella zona di Ro però il tempo per trovarsi ovviamente è sempre poco e siccome l'anno scorso avevo inviato un pacco con il suo regalo di Natale e non è mai arrivato a destinazione ci siamo dette non spediamoci più nulla quando avremo l'occasione di incontrarci ci scambieremo i regali di compleanno e di Natale quindi quest'anno è stata un po' una raccolta di tanti pensierini durante i vari mesi da poter poi regalare alla Simo io ho ricevuto davvero dei regali bellissimi dei regali bellissimi dei regali fatti con il cuore soprattutto quando una persona ti conosce così bene ti fa dei regali che sono proprio tuoi adesso ve li faccio vedere poi volevo anche raccontarvi qualche buon proposito che sicuramente non riuscirò a mantenere in questo 2024 ma mi sembra sempre bello poter fare dei progetti in modo da riuscire quantomeno a cercare la voglia e l'entusiasmo di poterli fare allora i regali che mi ha fatto la Simo spaziano dalle sue creazioni meravigliose dai libri che amiamo dal beauty che amiamo e quindi è stato proprio un purpurri di regali spettacolare allora ho ricevuto queste due maschere lei sa la mia passione per le maschere e quindi mi ha regalato questa maschera alla pesca e questa che è la Hydra Bomb della Garnier che sono le mie preferite come ormai voi sapete poi una bellissima palette di trucchi devo ricominciare a truccarmi devo ricominciare a fare le maschere adesso qua non riesco più neanche... come faccio? perché? vediamo se riesco ecco qua mamma mia ok tutto in diretta ragazzi guardate che carina questa piccola palette di Revolution con questi colori bellissimi che sono i miei colori bella 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 grazie Simo qui mi ha detto che è stata la figlia l'Auri Aurora a scegliere per me brava Auri come sempre sei al top e quindi questo è un altro regalo beauty e poi un SOS Emergenza Imperfezioni che conosco l'azienda ma non ho mai provato questo prodotto della Lab Care pelli con rossori e cuperose la mia pelle non l'ho ancora aperto perché ho in uso un altro correttore per imperfezioni però sicuramente quando avrò finito inizierò con questo poi un'altra passione che abbiamo in comune con la Simo è la cucina e sempre riusciamo a scambiarci qualche libro di cucina uno è questo di Allan Bay vellutate e creme e visto l'esigenza di ritornare in forma e questo sarà un buon proposito che avevo iniziato nel 2023 avevo percorso per qualche mese ed ero riuscita poi è successo tutto l'ambaradan di mia mamma e è andato tutto all'aria perché se io non sono a posto con la testa non riesco a fare la dieta e non riesco a fare nient'altro questo è un bellissimo libricino l'ho sfogliato velocemente non ho ancora avuto il tempo di guardarlo per bene ma ci sono davvero tantissime idee di vellutate vellutate di cardo con uova poché guardate che belle con questa carta così ruvida che mi piace tantissimo crema di piselli e panna vellutata di lenticchie e verdure vellutata di fagioli di lamon e crumble al rosmarino bellissima le vellutate in inverno mi piacciono tantissimo in inverno e autunno sono il piatto della sera preferito si fa alla svelta prepararle d'inverno mi piacciono tantissimo diventano per noi un piatto unico molto spesso io faccio vellutate alla sera con qualche crostino poi magari un pezzetto di formaggio diventano un piatto unico quindi sono sazianti disintossicanti e molto gustose crema di avocado e capesante guardate che belle che sono davvero un libro bellissimo ma poi la chicca del libro ve la faccio vedere poi mi ha regalato questo meraviglioso libro l'avevo visto da lei l'avevo già messo in lista e questo libro me l'ha regalato anche un'altra mia amica che è una carissima amica Betta ringrazio per questi meravigliosi pensieri perché hanno azzeccato al 100% i miei gusti questo è un libro stupendo parla sì della magia dell'inverno della magia delle feste di come apparecchiare di come decorare guardate vi faccio vedere qualche immagine ma è davvero spettacolare scusate pane senza impasto e anche qui questo sarà un altro proposito di ricominciare a fare il pane in casa con il lievito madre o senza lievito madre il tronchetto di Natale un libro davvero meraviglioso cucina naturale la magia dell'inverno di Stella Bellomo che io seguo da tanti anni la copertina è bellissima e l'interno è ancora più bello poi un altro libro un libro da leggere perché ovviamente oltre ai libri di cucina qui ci sono anche tanti libri che io devo ancora leggere e poi dalla foto vedrete quante cose ci sono in questa camera vi prego di non fare commenti sulla mia capacità di accumulare lo so già da me e un'altra cosa che vorrei riuscire a fare quest'anno è di non acquistare più cose che non mi servono ma che mi piacciono soltanto perché di cose che mi piacciono ce ne sono sempre tantissime e ce ne saranno sempre tantissime ma al momento non mi serve nulla o più del necessario ma molto 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 di più del necessario l'arte segreta dei rimedi del cuore regina o melveni ci sono erbe che possono curare il tuo cuore ci sono mali che solo l'amore può guarire non conosco questo libro ma già dalla copertina mi piace molto una nuova grande voce della narrazione storica un romanzo poetico ed emozionante che intreccia medicina magia e amore e mi sembra anche questo un bellissimo libro poi ve lo recensirò alla mia maniera quando l'avrò letto ma oltre ai libri di cucina oltre ai romanzi che cosa mi ha regalato la sim veramente tantissima roba qui ci sono sia i regali di compleanno che i regali di natale un piccolo libricino di amigurumi della dmc con tanti schemi carini guardate che bello che è l'unicorno questo sarebbe adatto per il mio amico fabri è da un po' che vorrei iniziare a fare gli amigurumi e amigurumi scusate e chissà che questo non sia il libro che mi dia la svolta ci sono davvero tantissime tantissime cose carine il lama guardate che bello poi sempre per la creatività questa rivista che io avevo visto da lei mi era piaciuta tantissimo della anchor creativa borse e altro ci sono delle borse davvero carinissime questa mi piace tantissimo molto molto belle e questa camera abbistanza creativa guardate questa che colori colori del mare blu azzurro azzurrino spettacolare ma anche questa pochetta che adesso ho visto in copertina anche qua guardate che bello tantissimi spunti per un nuovo anno creativo insieme davvero tantissimi spunti e poi una rivista di moda maglia e uncinetto dove anche qui ci sono davvero tantissime idee c'è questa sciarpa qua ci sono tutti i punti scuola di maglia scuola di uncinetto questi piccoli sacchettini per riporre dei doni poi vediamo cosa abbiamo ancora aspettate che giro va una borsa una sciarpa da uomo insomma devo ancora guardarli bene perché in questi giorni dopo che sono tornata dalla simo ho rivoluzionato la stanza hobby e quindi non ho avuto il tempo materiale per poter vedere bene tutto quello che mi ha regalato poi la simo è bravissima all'uncinetto se la seguite lo sapete se non la seguite vi consiglio di seguire il suo canale perché ha le mani d'oro questi porta saponette che fungono fungono si dice anche da scrub delicato sono ideali da mettere nella doccia qui dentro c'è all'interno questo l'ha fatto lei questo sacchettino meraviglioso all'interno c'è una saponetta al momento ovviamente ancora confezionata ma poi voi potete mettere il vostro detergente solido la vostra saponetta all'interno senza la confezione e lavandovi fate anche un leggero un leggero scrub questa è un'idea che voglio assolutamente copiare dalla simo per l'anno prossimo magari anche come idea da fare per il gruppo missionario che quest'anno ho un po' abbandonato per le varie vicissitudini che ho avuto ma poi vedete c'è questo nastrino dove voi la potete attaccare all'interno della vostra doccia e utilizzare è davvero carinissimo ma ma ultimo regalo ma non perché è il meno bello anzi secondo me è spettacolare per chi la segue ha visto che la simo stava facendo questa meraviglia lei sa del mio ufficio sempre freddo e sa anche che adoro questa tipologia di indumenti perché le posso togliere le posso mettere in base alle scalmane della shura giana che mi arrivano questa mantellina meravigliosa che è un modello di madame crochet se non sbaglio che lei mi ha regalato adesso la indosso prima e questi sono per me degli accessori indispensabili perché mi tengono calda la parte alta mi lasciano le mani libere per lavorare al computer in ufficio e quando fa caldo me la tolgo e poi me la rimetto bellissima simo è caldissima i colori sono stupendi veramente adesso ve la faccio vedere un attimino da vicino qui dentro fa un caldo pazzesco in questa c'è il suo bottoncino che è il suo marchio è davvero molto 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 bella guardate che colori guardate la precisione dei punti la simo è bravissima e questi sono tutti i suoi regali veniamo ai propositi vi dicevo che potrebbe essere la copia del suo video perché praticamente anche lei ha detto queste cose ma io non è che ho voluto copiarla avevo in mente di fare un video così e quindi abbiamo fatto una specie di doppione i propositi sono vorrei riuscire a ritornare a fare il pane in casa la lievitazione è stata per me sempre una compagna fedele in cucina avevo il mio lievito madre che si chiamava Lazzaro e tante volte è risuscitato ma questa volta è definitivamente morto neanche con i miracoli è riuscito a risuscitare me lo sono fatta regalare da un amico qui in parrocchia che anche lui utilizza il lievito madre e quindi adesso vorrei veramente ricominciare fare il pane non è soltanto una diciamo una cosa che in cucina mi piace fare è proprio secondo me una terapia anti stress mi piace impastare mi piace aspettare la lievitazione è comunque una un'arte che ti permette di imparare ad avere pazienza soprattutto se si utilizza il lievito madre ci sono le levitazioni lunghe le levitazioni e gli impasti ad alta idratazione tutte queste cose mi sono sempre piaciute e ho tantissimi libri ma che ve lo dico a fare e mi piacerebbe ricominciare a fare a fare anche il pane e a dare alla mia cucina anche una svolta un po' più naturale un po' più salutistica un po' più sana ultimamente sia per il poco tempo che per le festività insomma ci siamo dati alla pazza gioia lo vedono i miei pantaloni e tutto il resto ma vorrei riuscire veramente a dedicare un po' più di tempo alla cucina alla cucina sana alla cucina gustosa ma leggera e un'altra cosa che vorrei ricominciare a fare e che vorrei iniziare con questo 2024 e ricominciare a fare i saponi ho finito tutta la mia scorta di saponi fatti in casa ho fatto tanti regali li ho utilizzati e vorrei ricominciare a così a riavvicinarmi alla saponificazione e magari anche alla produzione di qualche detersivo di qualche cosmetico magari vi farò qualche tutorial non lo so ci ci penserò vedremo come come funzionerà però vorrei proprio per me stessa ricominciare a fare i saponi è una cosa che mi piace molto che mi piace anche regalare e quindi questa è una cosa che vorrei ricominciare a fare che altro buon proposito come ve l'ho detto rimettermi in carreggiata dal punto di vista dell'alimentazione fare più movimento godermi questa splendida stanza che adesso è pronta per accogliere qualsiasi idea creativa e qualsiasi novità creativa ci sia sul mercato vorrei ricominciare a cucire per me stessa fare qualche capo di abbigliamento molto semplice vorrei ricominciare a ricamare sono andata dall'oculista e sono migliorata ragazzi sono migliorata la mia miopia è migliorata infatti mi sono accorta perché con questi occhiali che sono progressivi da vicino ci vedevo male e mi sono accorta che sono migliorata quindi sono andata a fare una visita di controllo e effettivamente è così quindi dovrò cambiare gli occhiali e quindi anche questa cosa mi darà la possibilità di ricamare un pochino vorrei però che è la cosa più importante per questo 2024 dare il giusto tempo o trovare il tempo giusto per fare le cose quindi dedicare sì del tempo alla mia crescita personale creativa alla mia crescita anche spirituale vorrei dedicare del tempo pratico per poter fare delle cose e non soltanto passare del tempo davanti al pc cercando nuove idee salvandole e poi non riuscire a fare nulla quindi bilanciare proprio il tempo per la ricerca per i social con quello che è effettivamente il tempo speso per poter fare perché altrimenti tutta la mia ricerca tutto il mio oh che bello questo modello ah che bello di qua mi piacerebbe fare questo mi piacerebbe fare quest'altro alla fine accumulo soltanto idee senza poi metterle in pratica quindi mi piacerebbe davvero riuscire a dare l'attenzione giusta al tempo dedicato nel fare che è al tempo dedicato poi per tutto per tutto il resto tenendo conto poi chiaramente di tutti gli inconvenienti e di tutte le cose che escono all'ultimo minuto legate alla salute legate alla mia famiglia legate alla mia mamma cercare davvero di trovare un giusto bilanciamento tra tutte le cose non è una cosa semplice è una cosa che tutti gli anni mi riprometto di fare e che poi alla fine proprio perché ci sono delle cose che non abbiamo programmato perdo per strada ma questo penso sia un po' così per tutti e nulla è quindi anche il giusto tempo dedicato al canale con dei video come quelli che facevo prima dei mesi degli ultimi mesi con i miei svuota la spesa con i miei prodotti che ho provato e che mi piace consigliarvi con i lavori che ho fatto avrei voluto fare un video con gli ultimi lavori ma non sono riuscita alcuni lavori poi li ho regalati alcuni lavori fatti a maglia e all'uncinetto li ho regalati ma ci sarà tempo durante quest'anno per poter vedere altri nuovi progetti e tutto quello che c'è in corso però ecco camminando su questo sentiero del 2024 con molta molta calma cercando di accumulare serenità perché è quella che poi ci permette di affrontare i momenti bui che purtroppo sappiamo ci sono per tutti per me ci sono stati in questo ultimo 2023 questo ultimo anno ma tutti abbiamo dei momenti in cui ci troviamo in difficoltà per varie situazioni ecco il fatto di ritrovare la serenità la calma il tempo per potersi voler bene per dedicare a se stessi è proprio quella spinta che ci dà la forza poi per affrontare i momenti di difficoltà è nulla io vi risaluto è stato un video così un purpurri di idee vi ho raccontato il mio incontro speciale con la Simo che è davvero un'amica speciale proprio speciale a cui io voglio molto bene e so che tutto quello che io ho detto lei l'ha detto nei miei confronti ma non è stato un copiare è stato proprio un condividere quello che pensiamo l'uno dell'altra trovare delle amiche vere degli amici veri è difficile ma quando poi lì si trova bisogna tenerseli proprio stretti e come vi dicevo nell'ultimo video non aspettate c'è sempre noi diciamo sempre ah ma sì questa cosa c'è tempo la farò quando avrò finito quest'altra adesso sono incasinata non riesco a trovare il tempo per telefonare per bere un caffè no il tempo come vi ho già detto come mia esperienza ci sfugge di mano e a volte capitano delle situazioni in cui poi alla fine non c'è più tempo quindi se avete degli amici delle amiche vere coltivateli coltivateli fateli sentire che li volete bene che ci siete per qualsiasi cosa ricordiamoci sempre di non giudicare perché ognuno di noi ha la sua vita complicata ognuno di noi ha le proprie situazioni a volte basta proprio saper ascoltare ed accogliere nel proprio cuore quello che l'altra persona ci vuole dire se un'amicizia è vera se un'amicizia è bella anche se ci permettiamo di dare un consiglio che non è quello che l'altra persona si aspetta l'altra persona sa che tutto il nostro affetto e tutto il nostro amore è in quelle parole quindi sicuramente non lo prenderà come una critica ma come un suggerimento è quello che capita tra me e la Simona come con tante altre amiche e io vi auro di cuore di avere nella vostra vita degli amici veri che vi sappiano comprendere ascoltare consigliare e abbracciare anche i gesti di affetto sono molto importanti io non sono una persona che fa dei gesti affettuosi non è nella mia natura anche se magari non sembra faccio molta fatica ad essere affettuosa però mi devo ricordare di questa cosa quindi ecco questi sono i miei buoni propositi per l'anno nuovo io vi saluto adesso cercherò di fare qualche foto a questa bellissima stanza hobby rinnovata e cercherò veramente di passarci un po' di tempo perché è proprio bello stare qui con il sole con il caldo ci sono tutte le mie piante le mie orchidee adesso devo dedicarmi anche alle mie orchidee con la simo siamo andati in un vivaio bellissimo dove ho acquistato alcune cose ho acquistato anche dei vasi per rinvasare le mie orchidee io non ho il pollice verde o quantomeno non mi ci dedico più di tanto ma in questa stanza che è molto calda e c'è molto sole molta luminosità le mie orchidee sono una meraviglia pur non facendoci nulla io veramente non faccio nulla non le rinvaso non le do i concimi taglio via ogni tanto qualche fogliolina secca ma qui le orchidee vengono che sono una meraviglia quindi adesso ci vorrei dedicare anche così un po' di tempo alla cura di queste meravigliose piante ebbene vi auguro ancora di cuore uno splendido 2024 che vi porti serenità gioia pace amore per le altre cose ci arrivano anche se non le chiediamo e quindi buon anno a tutti e vi do l'appuntamento ad un prossimo video e ancora grazie perché nonostante la mia essenza voi mi seguite sempre con tanto affetto con tanta simpatia con tanto rispetto e questo è davvero per me molto molto importante un abbraccio e a presto ciao ciao